Ma perché ti sei conciato così? Ma come ti sei combinato? Ma in testa, che cosa hai messo? Mi sono vestito alla caprese, alla lallo, alla foffo, all'arrello e cecchini. Ai ai, tu piuttosto, non vorrei mica venire vestito così, mi faresti sfigurare. Ma io non posso conciarmi così, sono un attore serio. E perciò non hai una lira, amico mio. Oggi per fare colpo bisogna essere eccentrici, futili. Sì, tu ti devi futilizzare. Non posso. Hai detto a me, futilizzati. Non posso. Ti futilizzo io. Vieni qua, fatti futilizzare. Non posso. Fatti futilizzare.